E chiudiamo con qualche nota positiva, il Ticino lo sappiamo è anche terra di innovazione, sono tanti gli imprenditori che malgrado il periodo difficile si lanciano appunto in nuovi progetti che non di rado raccolgono anche un notevole successo. Allora sentite che cosa hanno combinato questi due ragazzi, abbiamo appunto raccolto la voce di una start-up, li sentiamo poi in linea allo studio. Abbiamo lanciato un progetto I'm Back su Kickstarter, sulla piattaforma crowdfunding e in 30 giorni, 40 giorni circa abbiamo tirato su 500 mila franchi. Ad oggi il valore totale siamo circa su un milione con questo prodotto dove digitalizziamo macchine fotografiche analogiche, ossia diamo una seconda vita alle macchine fotografiche analogiche vecchie. Siamo stati contattati dagli Stati Uniti, da New York, dalle più grandi catene di vendita di fotocamere, quindi da Adorama e BH. Come si fa ad essere ottimisti, a fare imprenditoria con ottimismo malgrado un momento così difficile? Bene, io direi che la risposta è persistere, combattere, cioè andare avanti anche se sentite tanti no, no questo non funzionerà, questo non andrà bene, bla bla bla, le possibilità ci sono, dobbiamo solo combattere.